C'era una volta una famiglia. Siamo stati in quella caverna un'eternità. Tre giorni non sono un'eternità. Sì, con questa famiglia. La prima famiglia moderna del mondo. I Kruz. Rifassiamolo, ho chiuso gli occhi. Questo dovete assolutamente vedere. Sono in viaggio verso un nuovo straordinario mondo. Niente di grosso sa ancora che siamo qui. Papà? Me ne occupo io. Forza papà, spendili! Per cercare un nuovo futuro. La nostra famiglia che parte per un viaggio lungo e lento attraverso la natura. Questo renderà la nostra famiglia più unita. Dai creatori di Madagascar. È importante avere un animale da compagnia. Ti chiamerò Douglas. Sai fare così? Rotola! Bravo Douglas! E di Dragon Trainer, fuoco. Gli piaccio. Ehi, ma morte! Prova a nasconderti in mezzo all'erba secca! I Kruz. INDIVIDIE BLU-RAY